Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube di Foodspring. Io sono Francesca Fitness Freak e oggi andremo a fare un allenamento da 10 minuti per gambe, addominali e glutei. 30 secondi per esercizio, no rest tra un esercizio e l'altro. Pronti a sudare? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.